Secondo i soccorritori, una valanga di sostenitore ha scalato le porte e si è riversato nei tunnel che portano agli stand.where la tragedia è stata consumata la polizia con un post su Twitter deve essere conto, cui si spiega che almeno altre due persone sono state ferite e sono state trasportate in ospedale stato critico. La tragedia durante la partita tra Ariane Fass possiamo confermare 9 morti, 7 uomini e due donne ha detto Carlos Fuentes, portavoce del gruppo soccorso di pronto soccorso Commandos abbiamo assistito a più 500 persone, mentre oltre 100 sono stati trasportati di hospitals. La partita tra Altyana e Fass è stata sospesa 16 minuti dal calcio, quando i fan sugli spalti hanno iniziato a giocherellare freneticamente e portare i feriti in campo. L Indonesia, almeno 32 bambini che sono tra la folla allo stadio le immagini dei televisori locali della tragedia trasmettono le terribili immagini della tragedia dozzine infortuni si diffondono sull'erba del campo di calcio mentre ricevono cure mediche, mentre i fan che spuggono alla folla agitavano furiosamente le camice nel tentativo fare in onda e RIVV Tuseo aveva perso i sensi. Una valanga di fan ha scalato Pedro Hernandez, presidente della migliore serie di calcio del paese, ha affermato che, secondo le informazioni preliminari, la fuga precipitosa è avvenuta perché molti fan hanno attaccato un cancello arrampicandolo e si sono riversati nei tunnel che portano agli stand. Era una valanga di fan, quello che si arrampicava sul cancello. Alcuni erano nel tunnel, altri riuscirono a raggiungere gli spalti e poi sul campo e furono soffocati, ha spiegato un soccorritore. Congo, 11 tra la folla in un concerto a Kinshasa discorso sui biglietti il commissario nazionale di polizia civile Maurizio Arrizza Scicas, che si è precipitato sulla scena della tragedia, ha affermato che ci sarà un'indagine penale in collaborazione con l'ufficio generale del procuratore. Indagheremo sulla vendita di biglietti e sulla situazione degli ingressi degli ingressi lo stadio, specialmente nell'area sud dove, a quanto pare, il cancello è stato spezzato dai fan.